Ovunque tu sia e desideri recarti, la nuova app di Autopostale ti fa da guida in tutte le destinazioni del trasporto pubblico in Svizzera. Cerca il luogo di partenza di tua scelta e inserisci il tuo punto di arrivo. Ora puoi visualizzare il tuo percorso con tutti gli orari di partenza e le coincidenze. Con un clic sulla mappa puoi vedere il tragitto che stai percorrendo. Se è una tratta che percuri spesso, puoi inserire delle fermate nei tuoi preferiti, in modo che tu vi possa sempre accedere più rapidamente. Per i smartphone Android c'è il pratico widget con il quale puoi visualizzare direttamente sul desktop le prossime partenze delle fermate dei tuoi preferiti. A proposito, sia che tu vogli approfittare delle esclusive offerte di MyPlus, cercare una fermata con la telecamera, oppure spulciare fra le escursioni delle idee a tempo libero, l'app di Autopostale è versatile. Procurati subito l'app di Autopostale nell'App Store o nel Google Play Store e scopri tante novità entusiasmanti. Autopostale nell'App Store Autopostale Autopostale